Se fosse un match di pugilato, l'eco cremonese sarebbe sbilanciatissimo fin dal classico momento della pesatura. La cremo sulla bilancia del campionato è ormai ufficialmente un peso massimo. Il lecco, se a inizio campionato era un peso mosca, adesso è un mini mosca, praticamente un peso moscerino. E insomma, su chi scommetti su questo match? Su quello che picchia poco, ma quando picchia sbriciola gli incisivi all'avversario come se fossero pavesini e soprattutto sono tre match che non incassa nemmeno un buffetto o su quello che nell'ultime tre partite ha beccato 13 gol. I numeri votano cremo con una maggioranza bulgara. Poi però c'è una vocetta dissidente che strilla Piacenza. Eh già, al Galleana con la Feralpi Salò è vero che il lecco sabato ne ha beccate cinque, ma come si fa a dimenticare che anche la cremo ci ha inopinatamente lasciato le penne? Una sconfitta che ha fatto scandalo, anche se da allora i bresciani di lago hanno incominciato a macinare punti. Ma come dicevano i latini, che la sapevano lunga, è bene che accadano gli scandali e il ricordo del Galleana promette di tenere svegli i grigiorossi al rigamonticeppi. Anche perché per stroppa la formazione sarà obbligata o quasi, dato che parecchia gente in settimana ha marcato visita e Vasquez è squalificato. Chiaro che l'allenatore non vede l'ora di avere il grande piacere di scrivere in distinta il nome di Dennis Johnson. Io parlo a mercato aperto e sto recitando le novene perché vada in porto quello che sarebbe per distacco l'affarone del mercato cadetto. Con il norvegese in un colpo solo prendi uno specialista nel creare palle da gol e lo soffi a una concorrente diretta che più diretta non si può. Tu che ascolti questa rubrica a mercato chiuso, se Johnson è ufficialmente grigiorosso sei autorizzato ad andare al bar a festeggiare. Di che pago io? Poi non è vero, ma il barista sarà così contento anche lui che non se la prenderà troppo. Altri appunti da portare nella sacca con parastinchi e bagnoschiuma. Il ricordo della fatica fatta all'andata per vincere con gol di casta e il fatto che il Lecco nel suo piccolo ha battuto Palermo e Parma non ha perso col Venezia e nemmeno il derby col Como. Insomma questo moscerino mica sempre si spiaccica sul parabrezza delle fuoriserie. Ogni tanto riesce a costringere anche avversarie d'alto bordo a ballare alla sua musica che naturalmente è il waltzer del moscerino. Ci proverà anche con te Cremo, ma tu non cascarci e fai la voce grossa, fai capire all'ecco che mica siamo allo zecchino d'oro.